Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Fate a Taraxia Cava. PVC, dipinta figure PVC, dimensioni, altezza, circa, 130 mm, scala, un 6 scale, scolpito da Ryo Hashimoto da, Fate a Taraxia Cavo, saber, apparso nel costume da bagno. dimensione corporea, circa 13 cm, obiettivo genere, ragazzo, et, a partire dall'et, di 15, la paese principale produzione, Cina. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.